Ragazzi vi confermo che sarò presente al Games Week Venerdì sabato e domenica Tutti quanti i giorni quindi sarò in giro Sarò con TR tutto quanto il tempo Poi anche con Marci, Tinedere Non so dove però saremo in giro E nulla, mi raccomando Games Week, Roffiera, Milano Sabato, domenica e anche venerdì Portarvi tantissime fan art soprattutto perché tra un po' semmai 100k E farò un video dedicato appunto per tutte quante le vostre fan art Quindi portarvi tantissime 1500 like ragazzi vi porterò un 2 video sulle Griffin Challenge Con gli altri quindi 1500 like spaccate da 6 like Se sei nuovo mi raccomando iscriviti al canale E attiva la campanellina per avere Tutte quante le notifiche per i video Bene ragazzi guardate bentornati a questo nuovo video Delle Griffin Challenge ragazzi spaccate da 6 like mi raccomando E iscrivetevi al canale che è davvero Tanto tanto importante che arriviamo ai 100k Tra un po' e oggi ci troviamo una bellissima Griffin Challenge per chi non lo sapesse Spacchiamo i Lucky Block e quello che troviamo Dentro lo utilizziamo per distruggere le nostre isole Oggi siamo in compagnia tutti quanti questi Bomber quindi mi raccomando un bel like Un bel commento e nulla Mi raccomando iscrivetevi Ok start up Ora perfetto gente Allora iniziamo questa bellissima Griffin Challenge Dove non mi metterò in game mode Non grifferò niente assolutamente nulla di nulla Allora spacchiamo qua tutto quanto Ok mi è apparito qualcosina Comunque in cubes è molto più difficile griffare Quindi secondo me utilizzare la tecnica Uh che belli questi attrezzi La tecnica raccimo tutto quanto E verso la fine vi faccio esplodere Sarebbe un'ottima tecnica Comunque ragazzi mi raccomando qua nei commenti Iscrivetevi anche dei consigli Per delle prossime sfide delle Griffin Challenge Se comunque è più o meno ripartita questa New stagione delle Griffin Challenge Mi piacerebbe avere da parte vostra comunque Dei consigli molto belli Sapete che li leggo tutti quanti Soprattutto i consigli delle Griffin Challenge Della vanilla queste serie Che hanno bisogno anche del vostro apporto Chiedo sempre dei vostri consigli Comunque questi slime sono fastidiosissimi E l'altra volta se ci fate caso Chi non so se ne è accorto Eh ho fatto un fail Pensavo che ci fosse la possibilità di craftare Le rannatele con le slime Con piccoli dettagli Comunque rega Settimana prossima Che è la settimana posto GV Dove non avremo più fiere Non dovrò più andare in America Ho queste cose Si parte con le novità Si partono con delle cose tanto tanto belle e carine Ho delle nuove serie da fare Ho un sacco Perché Vieni qua Gioca nella tua isola No raga Sono un attimo in utilità Da questo bianco qua Calma 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 Allora Giochiamo qua intanto Spacchiamo tutto quanto No Che palle sto solco Non sono in GM1 rega Lo giuro Lo giuro Lo giuro Lo giuro Lo giuro Non sono in GM1 Rega siete testimoni Marco la tua teoria è giusta In che senso In che senso la mia teoria è giusta Spaccati spider giochi di merda Dio mio Che palle Che mi fa perdere tempo Ogni volta Muori Diamine Spacchiamo tutto intanto Che palle E dicevo comunque Partire la stagione delle nuove Eh Dei nuove serie Delle nuove sfide C'è in ballo Rega Una serie Che voi Dai veloce a fare screen Dai su Veloce E dai 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 Rega Quando siamo in partita Vi prego Basta Ste cose davvero Soprattutto quando abbiamo un tempo Ste caccate qua Non Non facciamo screen Tanto mi trovate sempre nei server Vi dico sempre di giocare tutti quanti assieme Lo so che ci tenete davvero un sacco Poi saranno quelli Ma non tirartela Voglio solo fare uno stupito screen Eh rega però Fatemi prendere lo scettro Perfetto Sta andando un sacco male eh Sta andando un sacco male Sacrifice challenge Molto male E se continua così rega Mi metto in GM Con lo scettro dei blaze E Bomba antimateria No eh Non ci credo Non ci credo Si è bugato tutto Cioè Mi ha fatto il fulmine Sulla bomba antimateria E ti pareva bob Vabbè Ehm Sta andando male Sta andando un tot male raga Un tot Per un tot vuol dire veramente un tot rega Un tot vuol dire veramente un tot Qua Spada del fuoco inutile Squid però ci stava Eh rega In quanto tempo In tre minuti Dio mio Ma basta Con sti mobostili Dio mio Che palle Questa Dimmi a TNT Niente Prendiamo solo le frecce Perché magari ci serviranno dopo Ehm No ho sbagliato scusami Perché c'ho uno scudo Per ci serviranno dopo Per Ehm Per cosa le frecce Magari per qualche Black hole Eccolo Lo chiami arriva Però teniamocelo da parte un attimino Perché voglio utilizzare tutto quanto Verso la fine Quanto tempo è passato Tre minuti e trenta Iiii Poco poco tempo Questo bastone di Jackie Chan qua Ci servirà un sacco Mettiamoci via Magari Tutte quante queste cacatine qua Devo droppare nel vuoto Tutto quanto Comunque il bianco non deve No 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 Prendile Non ci credo Sono un mongoloide Comunque il bianco non deve andare via Stavo dicendo Perché sta Vabbè Fa niente Lasciamo stare queste cose Ehm Spacchiamo qua intanto Aspetta Aspettate un attimo Spacchiamo qua tutto quanto Molto 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 Bene Uccidiamo questo coso qua Che dà un solo fastidio Spacchiamo qua No raga Stando proprio male Secondo me È il record Di Anti Grif Della storia Secondo me Proprio record È stato Abbandonato La parita No Pane condito E uno c'è Tra il destrack Rega In quattro minuti Ho trovato un black hole A malapena Spacchiamo qua Sto dovacchino Un attimino Ok Ma quanto sei veloce Buggato Bambè Dai su Dai Muorici Grazie Qua Spacchiamo tutto quanto Basta Con questi set in diamante Diamine Non è possibile Sono andato Un male Malissimo È rotto Cazzo Eh Ti pareva Basta C'è un destrack Qua terra Allora C'è anche un blaze Da qualche parte Perché What Ok Qua pigman Comprimiamo qua Sono un pochino giù Rega Cavoli In cinque minuti ho trovato Un destrack E un black hole E Dov'è sto blaze Madò Che fastidio rumore Di blaze Vi giuro È una delle cose Che davvero Mi dà più fastidio Su minecraft Dai vai giù Dai bob Non va giù Spacchiamo qua Dov'è andato bob What the fuck Ma raga Comunque sto blaze Cioè io dico Blaze Senti rumore Di blaze Va a chiamata Ok Mi distratto lì Sentite Non c'è più nulla Blaze Ma guardate Blaze No adesso non funziona più Rega comunque Era una meme incredibile Ehm Continuiamo a spaccare qua Intanto Ehi No dai basta Sta merdata Sto trovando solo Schifezze abominevoli Non prendo Non posso hittare i cani No anche No anche pigman No dai Dio mio Che merda Andatevene via Tutti Diamine È una guerra Contra i mob Questa Eh Hater Stupidi Allora Spacchiamo qua Terrorista Ci sta Arco del tp Non ci sta Male rega Male 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 Malissimo Male Vediamo qua Marta di Thor Eh sì Se trovassi creeper Ossidiana Dio che schifo Rega Siamo i limiti del ridicolo qua Eh È i limiti proprio Buttiamo via ste caccate qua Via tosto set Via via Ok Arco del tp L'arco spettrale Dov'è il destratto Destratto Dov'è il black hole Non ditemi che ho buttato Ho buttato giù anche il black hole Rega Rega ma che cosa sto combinando Rega ma cosa sto combinando Il super pot Dimmi qua c'è la tnt Ok 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 Calma Keep calm Keep calm Perché anche se tutto fa schifo Sorridiamo perché la vita è bella Ecco Ho detto Ho detto eh Dove sei Vieni qua che mi dai meno le tue fireball schifose Eh Basta Diamine Ok Distruggiamo qua Dai Ho ancora Due minuti di tempo Rega Due minuti di tempo per trovare qualcosa di carino Perché poi dobbiamo fare spodere tutto quanto Eh Di sicuro non sono qualcosa di carino Via Ender per no Mi serve tipo qualcosa di effetto di haste Una roba del genere Per spaccare i blocchi in una maniera Incredibile Mi ricordo che questo qua dovrebbe avere l'haste Tecnicamente Si però non è attivo Mettiamola così Ok Ma non ci credo No Il distracto No 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 Sto facendo cadere tutto Calma 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 Pure con il super pot Sono un mongoloide Sono un mongoloide Allora È fail Raga È andata a baretto Sta parita proprio Preso E andava proprio Direzione bar Aggressivo Eh Io raga non ho Io Raga Non ho parole Per questa griff in challenge Vi giuro Io vi carico questa Perché è stato il griff più scandaloso della storia Il griff mal riuscito Più grande della storia Perché vi giuro Non ho mai trovato così poca roba Tiene team Ma questa qua raga Mi esplode qua adesso Scommettiamo Dai Oh no Mi hanno droppata Quanta Mi trolla Mi trolli Mi fai schifo la vita proprio Cioè tu la schifi proprio la vita Ok Calma No La witch no Dai 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 Con tutte le cose che potrebbero incapitarmi Laggo pure La witch Dove a capitarmi Vabbè Non c'ho parole raga È il legno Che Dubai C'ho direbbero in Veneto Spacchiamo qua Trovami altri set in diamanti Già che ti sei Posso non trovare sti cani di merda Per favore Che danno solo Cosa sta succedendo Fastidio e basta Trovi 49 cani in giro Quanto tempo abbiamo Sì però dai Sì mi vago pure Qua Invisibilità Dai raga Facciamo esplodere tutto quanto Un attimino Tanto non riusciamo a fare assolutamente Qua Facciamo così raga Facciamo così Un full set Di esplosioni Magari facciamo esplodere anche sti cani di merda Ok Facciamo così Ok Dai su esplodi tutto Mondo Tac Tac E tac Ok Esplodiamo Là sotto Io non c'ho neanche più black hole raga Cioè vi rendete conto Che fail l'ho fatto prima Poi l'ho sparato giù il distracto Cioè raga Uno schifo Uno schifo Sapete lo schifo Lo schifo reale Questo è lo schifo reale Davvero Non ho mai griffato così male In una mia partita Sono veramente amareggiato Per questo contenuto Di poca qualità Che vi porto sul canale Ve lo giuro Ok Eh Intanto esplodo male Con lag Qua non troverò mai Quello che voglio Mai 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 Raga Malissimo Oggi Molto Ma molto Male Non ho più nulla da tirare Se non Questi tre Shetri di blaze Quindi Spariamoli qua sotto Eh Intanto io sono esploso Queste 11 fireball Spariamole qua in giro E Tempo finito ragazzi Dunque Allora Teniamo d'occhio un attimino Il nero Qua Allora Il nero Eh Nì Però ho fatto un solchino qua Che però si apre da solo Il nero male Raga Il nero molto male Vediamo un attimino il giallo Blanket Vediamo se ci delude Blanket non ci deluderà mai Perché ha fatto un solco Giga enormico Molto bene Per adesso il bianco Il giallo è in vantaggio Il L'arancio L'arancio Ha fatto un bel solco Se la giocano l'arancio E il giallo Per adesso Poi vediamo un attimino Qui Viola Il viola Il viola Avanti All'arancio E il giallo Assolutamente Chi è il viola No Il blu È omega Gris Il Ehi Il viola È Sì e no Perché ha fatto molto Sul piano Eh Nè 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 Il viola Male Il verde Eeeee Eeeee E la la E la la Rega Il verde Vince il verde Ragazzi Vince il bomber Endernox Che ha fatto un lavoro Clamoroso Secondo me GG a tutti quanti Ragazzi Mi raccomando di lasciare un like Con un commento Scrivete al canale Se lo avete fatto Quella giro La griffin challenge Quindi Da marca è tutto Ragazzi Bene